Splendida affermazione per Niccolò Bonifazio nella terza tappa del Tour di Polonia 2016. Il talentuoso velocista italiano pone fine a una lunga serie di piazzamenti, trovando il primo successo con la maglia della Trek Segafredo al termine dei 240 km di corsa. Il Ligure non sbaglia nulla e riesce a districarsi al meglio in una volata piuttosto confusa, battendo nettamente Moreno-Offland partito troppo tardi. Completa il podio di giornata Luca Metzegg. Fallisce l'appuntamento con lo sprint Fernando Gaviria, che può consolarsi con la maglia gialla di leader della classifica generale. Fallisce l'appuntamento con lo sprint, Grazie a tutti.